Arrivo, eh! Siete già qua? Eccola! Arancia! Oggi vi faccio vedere che cosa con l'arancia. La ganache di caramello all'arancia. Si comincia da un caramello, così. Zucchero e destrosio. Combino le due insieme. Metto poco per volta sul fondo del pentolino. Poi abbiamo panna. Gratto un pochino di scorzetta d'arancia al suo interno. Portiamo questo a bollore. Agitiamo il nostro zucchero con il destrosio e si forma una specie di patina. Che succede? Quindi si scioglie. Aggiungiamo poi altro zucchero e continua a sciogliersi senza bruciare. Caramello pronto. Abbasso il fuoco. Decuocio con panna. Bollente. Quindi aggiungo sul cioccolato il mio caramello. Poi aggiungiamo il burro. Emulsioniamo. Licorio all'arancia. Questa è la nostra ganache di caramello all'arancia. Questa è la consistenza giusta. Noi ci vediamo la prossima volta per un'altra Damiano Tip. Noi ci vediamo la mia. Grazie. Ma è una cosa sentita.